Nei giorni che precedono l'ultimo dell'anno si moltiplica l'attività delle forze dell'ordine per il contrasto al fenomeno dei botti proibiti. La guardia di finanza segue stato oltre 220 mila artifici pirotecnici illegali per un peso di oltre una tonnellata in provincia di Napoli. In azione il gruppo pronto impiego di Napoli, quello di fratta maggiore, no, la torre annunziata e la compagna di Ischia. Una persona è stata arrestata e altre sette denunciate con l'accusa di fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di materiale esplodente. Nonché per violazione delle norme antincendio di pubblica sicurezza a Napoli. Nel quartiere Ponticelli i baschi verdi hanno rinvenuto e sequestrato all'interno di un'autovettura 100 ordigni esplosivi artigianali del tipo Cipolla. La conducente del veicolo è stata arrestata. In un secondo intervento nei pressi di piazza mercato i finanzieri hanno sequestrato un locale adibito a deposito con all'interno 160 mila artifici pirotecnici detenuti illegalmente. Nella Verinese a Mirabella e Clano i militari della guardia di finanza di Ariano e Irpino hanno sequestrato 46 mila articoli pirotecnici all'interno di un'attività commerciale. I prodotti Fontane, Magnum, Rauti, Candele Magiche e Bengala erano privi delle condizioni che garantiscono la sicurezza per evitare l'innesco fortuito. Il materiale sequestrato per un peso complessivo di 150 kg, 64 dei quali esplosivo, sono stati affidati in custodia giudiziale a un deposito autorizzato. Il commerciante è stato denunciato.